Buongiorno Ratzinger, o come ti chiama la mafia, Benedetto, o come ha sentenziato la magistratura, assassino. Oggi i suini dell'Opus Dei hanno ammesso di aver causato la catastrofe economica della Grecia, in quanto si rifiutarono di ubbidire agli ordini di Benedetto, ossia di tagliarsi via il pisellino. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.